Ci tengo a fare un po' un commento che esuli dai dati e che ha a che fare con le sensazioni. Ed è un discorso che avevo fatto simile cinque anni fa, quando comprensibilmente tante persone esultavano per i risultati che avevano premiato lega e movimento e tante altre si disperavano esattamente per la stessa ragione. Cioè sentivano che il paese va in una direzione che non li rappresenta, non li soddisfa e magari li preoccupa. E sono preoccupazioni che capisco, è da progressista ed europeista. Anche io ho il timore che l'Italia, che è anche mia, va da dove non vorrei che andasse. Ma cerco sempre di ricordare due cose fondamentali. La prima è che sono sopravvissuto, siamo sopravvissuti, sia a vent'anni di berlusconismo, sia a un governo con Salvini, ministro superstar. Quindi comunque non stiamo entrando in acque totalmente sconosciute. E la seconda è che il paese è lo stesso che c'era ieri. Non è cambiato nulla.